Quello che ho provato quando mi hanno nominato Young Guns è indescrivibile perché per un autore credo sia il coronamento di un sogno. Prepararsi a una performance live come questa diciamo che è stato difficile più che altro perché è la mia prima volta a disegnare in un formato così grande, formato lenzuolo oserei dire. Sono arrivato e ho fatto quello che ho potuto. Il personaggio degli Avengers a cui sono più legato anche se non è propriamente un Avengers è Spider-Man. È il personaggio che mi ha fatto decidere di intraprendere questa professione e l'ha fatto quando avevo sette anni, quando ho letto il suo primo fumetto e da lì per me entrare in Marvel Comics e poter lavorare con degli artisti di calibro mondiale è stato un'ossessione che sono riuscito a rendere reale, a realizzare questo sogno ormai quasi tre dieci anni fa. I miei prossimi progetti mi vedono impegnato ancora sulla serie di Daredevil che da poco ha avuto un rilancio della serie che sta andando molto bene negli Stati Uniti e quindi continuerò sicuramente su questa serie per un po'. Sto realizzando le copertine di una serie mensile di Conan e mi occuperò delle copertine di alcuni comics legati al prossimo film di Star Wars.